e la Bergamasca Milani dà un centesimo e stasera si ripete il duello al centro la Milani, spalla a spalla con la Caballero ovviamente ci sarà chi dovrà tenere alto il ritmo per un passaggio che dovrà essere intorno ai 59 secondi al primo 400 se si vuole correre da sotto 2-2-2-0-3 e prepariamoci ad accogliere gli atleti al primo passaggio tanto il ritmo anche a lungo dai ragazzi forza forza Maggioni ha fatto l'andatura sinora la Milani vediamo un po' 59-03 come un orologio svizzero il passaggio Milani, Caballero, Lucui e poi via via le altre Fornelli e tutte le altre dai Marta Mola Mia forza bellissima questa gara degli 800 Marta Milani che lo ricordiamo un personale di 51-84 sui 400 e 2-0-1 sugli 800 si rinnova il duello con la Sant'Iusti Caballero forza Marta tanto attenzione Alessio Guarini nel lungo retta d'arrivo per il nostro applauso per le protagoniste degli 800 Milani e Caballero e poi via via tutte le altre dai Marta Sant'Iusti Caballero Marta Milani e poi Margherita Magnani che adesso esce Caballero Magnani Caballero Magnani 2-0-4 e 25 tutte vicine un bellissimo 800 è terminato il tanto